Le dogani sono ancora chiuse, cosa auspica Luino? Auspica un'apertura, che si venga presto a una soluzione, perché per Luino rappresenta un danno importante per tutte le attività commerciali, la ristorazione, i negozi, il mercato, soprattutto il mercato che vede diminuire moltissimo l'affluenza e quindi di conseguenza anche tutti gli altri esercizi. Sono in corso interlocuzioni tra il Ministero italiano e le autorità svizzere e il Presidente dell'Associazione dei Comuni di Frontiera si sta muovendo in questa direzione, facendo pressione e muovendosi nel modo giusto. Speriamo che si arrivi ad una soluzione rapida Luino e tutta la zona non può aspettare oltre. Speriamo che si arrivi alla soluzione rispettando tutte quelle che sono le cautele del caso, senza dimenticarle, ma arrivando proprio a risolvere questo problema.